Le modalità di organizzazione e l'esito del concorso per 12 posti nel corpo della Polizia Municipale di Barletta suscitano diverse perplessità, chiedo al sindaco e all'amministrazione chiarimenti urgenti. A rivolgersi a Cosimo Cannito è il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Giuseppe Basile che analizza la vicenda partendo da un dato, su 1000 iscritti solo 450 si sono poi effettivamente presentati in sede di concorso. Il consiglio singolare è il fatto che su 1000 partecipanti solo 450 abbiano effettivamente partecipato al concorso e questo la dice lunga su come sia stato organizzato, sulla mancanza di informazioni e di chiarezza che questi partecipanti hanno dovuto subire per partecipare a questo concorso. Io ho citato l'esempio di 16 persone che hanno addirittura fatto verbalizzare al Presidente la loro protesta per non essere stati ammessi perché era anche farraginoso la modalità di accesso partendo da una lettera a ritroso piuttosto che normalmente in avanti. Ci sono diverse incongruità in questo concorso. A far discutere in questi giorni anche l'esito della prova preselettiva superata solo da 8 candidati a fronte dei 12 posti disponibili. Adesso abbiamo un esito con 8 candidati ammessi quando in realtà il concorso è per 12 persone e questi 8 candidati devono superare ancora una prova scritta, una prova d'inglese, una prova psicologica, una prova pratica di guida e alla fine una prova orale. Non lo so quanti ne rimarranno visto il grado di difficoltà di questo, credo, stando alle percentuali, nessuno. Quindi rischiamo davvero di fare un buco nell'acqua. Dal consigliere Basile Dall'Intero, gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, arriva alla richiesta al sindaco di un cambio di passo nell'organizzazione dei concorsi pubblici. Bisogna cambiare passo perché i concorsi devono essere fatti per raggiungere un obiettivo. I concorsi per gli strutturi tecnici e i funzionari tecnici. Noi rischiamo di avere a fine di questi concorsi una serie di assunzioni che ne servono al comune di Barletta, ma rischiamo di avere queste assunzioni senza l'abilitazione professionale di queste figure e quindi l'impossibilità di firmare i progetti, che è il problema principale del comune di Barletta, cioè quello di non avere la possibilità di progettare. Quindi se noi facciamo in modo che anche alla fine di questi concorsi ci ritroviamo con lo stesso problema dell'inizio, questi concorsi alla fine non avranno risolto nulla.